Ci occupiamo di intelligenza artificiale applicata al socio sanitario residenziale, quindi i contesti RSA e l'intelligenza artificiale la direzioniamo a quelle che sono tre aree strategiche, che sono riduzione al rischio clinico, personalizzazione dei percorsi assistenziali e supporto al controllo di gestione. Oggi le RSA non solo devono affrontare l'inflazione di cui parlano tutti, ma anche un'inflazione storica dovuta a un progressivo invecchiamento e infragilmente la popolazione che ricoverano e quindi sicuramente oggi l'innovazione tecnologica prende spunto nel dove amplificare quelle che sono le risorse a disposizione delle strutture e quindi gestire quelli che sono trend correnti ma anche ormai storici degli ultimi 10-15 anni.